Si avvicina il giorno del ricordo dedicato alle vittime delle foibe che ricorre il prossimo 10 febbraio. Per la comunità di Teggiano quest'anno la ricorrenza si prepara ad assumere un significato particolare. Per l'occasione infatti la strada ora denominata Santissima Pietà assumerà il nome via appuntato Giuseppe Morello, vittima delle foibe. Il cittadino tegianese Giuseppe Morello, sottolinea il consigliere con delega alla cultura con Antonio Delia, da servitore dello Stato italiano, fu tra le vittime delle foibe. Ed è dovere della nostra amministrazione civica porre le basi affinché l'oblio non cada mai su questa triste pagina della nostra storia patria. Il programma di lunedì 10 febbraio prevede alle 10 la cerimonia d'intitolazione presso l'aula consigliare del comune di Teggiano nel complesso della Santissima Pietà. Precedentemente alle ore 9.50 il corteo d'onore partirà dalla piazza dello Stato di Diano, ex piazza municipio, per raggiungere il sagrato della chiesa della Santissima Pietà. Presenzeranno tra gli altri Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, il prefetto della provincia di Salerno Francesco Russo e il questore di Salerno Maurizio Ficarra. Numerose sono le autorità civili e militari che hanno aderito all'invito.